Un presidente, il presidente di tutti, non è una frase fatta, ve lo assicuro. L'ho sempre dimostrato e quindi... Io dico le cose di cuore, per me quello che è fatto, la scelta di iniziare il percorso da consigliere comunale è stata una scelta mia, sicuramente assicuro di una riflessione mia, della mia famiglia. Scusate, sono i doni del genere, non è in Miss Italia, ma io ringrazio il mio marito. Perché è la mia assenza continua e quindi...